L'Islam tra religione e società. Quando parliamo di Islam, termine che ricordiamo significa sottomissione a Dio, nel senso di abbandono alla volontà di Dio in segno di dedizione a Lui, quindi intendiamo con questo termine due cose diverse, sia la religione, sia tutti i paesi che sono a predominanza musulmana e che fanno riferimento come libro sacro al Corano. Il Corano, a differenza della Bibbia, contiene al suo interno delle prescrizioni sulla vita sociale, il diritto penale, di famiglia e regole anche addirittura di igiene e di alimentazione. Per esempio, il Corano proibisce il consumo di carne di maiale perché è considerato un animale impuro, portatore di malattie, come anche per gli ebrei. Proibisce il consumo di alcolici per evitare di pregare ubriachi, obbliga a compiere delle abluzioni e quindi a lavarsi sempre mani e piedi prima di entrare nella moschea. Inoltre, Maometto ammetteva anche la schiavitù, anche se liberare gli schiavi era considerato un atto gradito ad Allah e prevedeva anche il principio ebraico della legge del taglione, cioè di una vendetta proporzionata all'offesa. La dottrina di Maometto permette anche la poligamia, cioè la possibilità di avere diverse mogli ma non più di quattro. La poligamia è consentita ancora ai nostri giorni, anche se però è poco praticata, perché comunque il marito è tenuto a mantenere tutte le mogli e tutti i figli che ha con pare dignità. E quindi soltanto le persone particolarmente ricche possono permettersi questo. All'interno del Corano troviamo citato anche il Jihad, che in arabo significa sforzo. Esistono due tipi di Jihad. Il Jihad maggiore, che è il più importante, è lo sforzo per affermare il messaggio di Allah. Lo sforzo per combattere le cattive tendenze, le cattive tentazioni interiori e quindi perfezionarsi. Il Jihad minore è invece inteso nel significato di guerra santa. A questo proposito va però precisato che nel Corano questo termine è indicato solo per fare riferimento all'impegno a sostenere militarmente e finanziariamente le guerre di Mahometto contro i Meccani e quindi non le guerre successive di espansione combattute dagli arabi, né tantomeno lo si trova utilizzato nel significato di guerra o lotta contro gli infedeli. Sempre a proposito di religione islamica, vediamo ora qual è meglio il luogo di culto dei musulmani. I musulmani pregano in comune il venerdì santo in moschea. Il venerdì è il giorno equivalente alla domenica nella religione cristiana cattolica ed è il giorno in cui non si lavora. In questa giornata i musulmani maschi devono riunirsi nel loro edificio di culto dove l'imam, che è un uomo riconosciuto come particolarmente onesto e pio e soprattutto istruito nella religione, dirige la preghiera, a volte commentando anche i fatti della vita quotidiana secondo le indicazioni del Corano. Per questo motivo è di solito molto rispettato anche dal potere politico. Le donne vanno in moschea soltanto se lo desiderano, però siccome hanno da badare alla famiglia, alla casa, sono in genere incoraggiate a restare a casa. Questa immagine riproduce la struttura tipica della moschea. Si distingue il minareto, che riconosciamo meglio in questa immagine, un'alta torre, che è un po' l'equivalente del campanile nella chiesa cristiana cattolica, dalla quale il muezzin cinque volte al giorno chiama e invita i fedeli alla preghiera. Prima di entrare nella parte della moschea vera e propria dedicata alla preghiera, si accede di solito ad uno spazio in cui si trova la fontana usata per le abluzioni. E poi si entra invece nella zona della preghiera, dove i musulmani rivolti verso la Mecca pregano e ascoltano però anche la parola, come dicevo prima, dell'Elimam, che si colloca su una struttura leggermente rialzata, dalla quale fa il suo sermone e che si chiama Minbar. Questa è un'altra immagine di un minareto, sul quale sale il muezzin. Qui vediamo invece dei bambini che si trovano all'interno di una scuola coranica e che sono impegnati nello studio del Corano, in particolare imparano alcune sure del Corano a memoria. Un termine che si incontra frequentemente parlando del mondo musulmano è il termine Ummah, con il quale si intende la comunità dei credenti, ossia la comunità politica, morale e civile di tutti i musulmani, che raccoglie tutti i fedeli indipendentemente dalle differenze sociali, etniche e culturali. La Ummah, come avrete modo poi di approfondire, si divide principalmente in sciiti e sunniti, divisione che però avviene su basi politiche, quindi per ragioni politiche, soltanto dopo la morte di Mahometto. Altri termini utili per capire il mondo islamico e comprenderlo e che troverete anche durante lo studio sono il termine Miro, con il quale si indica originariamente un capo militare e religioso, capo di una provincia scelto a governare da un califo, e poi il termine califo, un nome che è un po' l'equivalente come significato possiamo dire del concetto dell'imperatore, se vogliamo pensare al mondo occidentale, una figura che viene istituita immediatamente dopo la morte di Mahometto, che non aveva provveduto ad indicare in che modo e da chi sarebbe stato guidato lo stato musulmano dopo la sua morte, e quindi con il termine califi vengono indicati appunto i successori di Mahometto. Qui abbiamo un'immagine più dettagliata del muezzin impegnato nella chiamata dei fedeli alla preghiera dal minaretto, e in questa immagine invece vediamo rappresentato un gruppo di mujahidin. Nel termine mujahidin viene usato per indicare colui che compre il jihad, lo sforzo, nel significato di morale e alcune volte però come abbiamo visto anche nel senso proprio di aggressione militare, quindi materiale, per realizzare la volontà divina di Allah. Gli ulema invece sono gli studiosi e i dotti della giurisprudenza islamica.